Nulla di ufficiale, anzi. Di fronte a una precisa domanda sul suo futuro politico, il sindaco di Merano oppone un deciso no comment che forse però dice molto più di quello che potrebbe sembrare. Si vociferà addirittura dell'imminente convocazione di una conferenza stampa ad hoc nel corso della quale il primo cittadino della città del Passirio potrebbe annunciare la sua indisponibilità a candidarsi alle elezioni comunali del maggio 2015. Voci in tal senso si rincorrono ormai da tempo. L'esponente delle Svop dopo due mandati potrebbe gettare la spugna. Gunther Janut è sindaco di Merano dal 2005, allora al ballottaggio superò Mauro Minniti del centrodestra. Nel 2010 il suo avversario diretto al secondo turno fu invece la verde Cristina Curi. Sulla eventuale decisione di non ricandidarsi potrebbe pesare anche la sensazione che Merano abbia perso peso a livello provinciale. A Palazzo Wittmann pare riservino più attenzione ad altre realtà. Prova ne sia il rinvio al 2016 dei lavori per il secondo lotto della circonvallazione. Decisione assunta di recente dalla giunta provinciale e che ha fatto letteralmente infuriare Janut.